Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video dedicato a Warhammer di Old World. Dopo aver rotto il ghiaccio con il regno di Bretonnia e aver fatto una sorta di disamina, anche in certi casi approfondita, del contenuto del primo Arcane Journal, vorrei proseguire in questo senso con il secondo tomo, sempre intitolato Arcane Journal, dedicato invece questa volta a quello che è la controparte di lancio di questo momento topico proprio di Warhammer di Old World, che è appunto Tom Kings of Camry. Arcane Journal interessante, tanto quanto il primo che abbiamo potuto evidenziare e seguire proprio in prima istanza e vorrei farlo con una rappresentazione simile a quella precedente, quindi seguendo un po' le pagine che ci accompagneranno, anche se con diciamo delle licenze un po' più rapide, soprattutto in alcune parti, che ho già avuto modo di affrontare e di narrare in buona parte durante i video dedicati all'origine, diciamo così, dei Tom Kings e in particolar modo chiaramente della primissima parte legata magari a Settra in vita, ma anche allo stesso Nagash. Ora, fatto questo piccolo preambolo, anche qui doveroso, ne faccio subito un altro per anche evidenziarvi quello che sarà un secondo video che andrà a intrecciarsi in maniera abbastanza stretta con il primo, anche perché in questo caso affronteremo alcuni stralci narrativi che proprio derivano da Bretonnia e in particolar modo dall'ultimo romanzo che è stato pubblicato proprio con il lancio di Old World, un romanzo estremamente interessante che andremo appunto a citare qua e là e che ci riporterà nel novero anche dei Cavalieri Bretoniani. Il romanzo suddetto ve lo cito chiaramente è di Graham McNeill ed è Lords of the Lands, una novella sostanzialmente che ci servirà in un dato momento quando arriveremo a portata insomma di questa narrativa laterale, diciamo così, ma comunque affascinante, ripeto, e che si andrà a intrecciare in qualche modo a ciò che dobbiamo attualmente vedere appunto legato ad Arcane Journal. Bene, fatto anche questo secondo preambolo doverosissimo, possiamo finalmente direi iniziare con questa disamina e iniziamo proprio come fatto durante il primo video da The Land of the Dead, quindi la terra dei morti. Parliamo chiaramente di quello che è l'inizio, le origini, ripeto, andrò abbastanza veloce in questo caso, diversamente da Bretonnia che sul canale non l'abbiamo mai affrontata, perché le origini di questa fazione affascinantissima affondano proprio nella prosperità di questi popoli, di queste tribù umane, certo divise, ma che si ritrovarono in un territorio particolarmente fortunato che girava intorno a quello che un tempo veniva conosciuto come fiume Vita, un fiume che portava grande ricchezza, abbondanza all'interno di tutta quella enorme fetta di territorio che queste tribù andavano ad abitare, tribù che si sono trovate quindi in un clima di prosperità importante e che lentamente, ma anche qui in maniera abbastanza inesorabile, sono andate ad unirsi, a uniformarsi e a creare una società diciamo più delineata. Anche in questo senso città sono andate a svilupparsi, a crescere, alcune più velocemente di altre chiaramente, ma anche in tal senso la guerra ha iniziato a creare delle divisioni, alcuni re non si ritrovarono in accordo con altri, cercando di soppiantarli, di spodestarli, di imporre il proprio potere in maniera anche egemonica. Ora un periodo di guerra chiaramente è andato subito a defilarsi, appena appunto questa ricchezza è andata anche a contendersi, fino all'arrivo di uno dei re più importanti, il re dei re Settra. Parliamo di Settra e fin da subito chiaramente possiamo delineare una figura estremamente importante, certo, ma con una chiarezza di intenti, una forza non solo di tipo tattico, anche militare appunto, ma al di là di questo anche un'idea unica e di grande spicco nella volontà unificatrice e di gloria complessiva per l'intero popolo nel Cariano, che poteva spingersi sotto il suo potere, chiaramente sotto il suo controllo, al di là dei confini della terra, che un giorno verrà poi definita come terra dei morti, confini necariani, spingersi oltre con un'unione di intenti mai vista prima. Certamente Settra riesce in buona parte in questo senso, ma è anche un uomo che si pone con una debolezza chiara ed evidente, l'abbiamo appunto affrontato durante i video e qui vi rimando alla serie principale del canale, se non l'avete vista chiaramente vi consiglio di recuperarla, un Settra che teme a un certo punto la morte e si rifà a una seconda entità estremamente forte all'interno dei confini necariani che è il culto dei morti. Il culto dei morti che viene già utilizzato da Settra per delle pratiche di ringiovanimento, per cercare di rinviare il momento di affrontare la morte, ma un culto dei morti che non riesce chiaramente a ottenere il segreto della vita eterna. E per questo appunto Settra, prima di morire, incarica i sacerdoti del culto di continuare la loro ricerca della vita immortale per poter un giorno tornare alla vita essenzialmente sconfiggendo la morte e riprendere in mano il potere del popolo di Necara per poter finalmente spingersi al di là di tutti i confini delle terre conosciute per poter creare un regno, un impero su cui sostanzialmente non tramonti mai il sole. Questo chiaramente è l'inizio di tutto. Fatto questo primo, prima calata all'interno della narrativa delle origini, si fa un velocissimo riferimento a ciò che accadde dopo la morte dello stesso Settra e quindi a quello che sappiamo, il rituale del traditore Nagash e il sollevamento sostanzialmente dei sacerdoti lich, che tornano in vita ad una non vita, per la correttezza, con lo stesso Settra ed altri re che però si troveranno chiaramente davanti ad un lavoro non completato, ad una non vita deturpata, terrificante, inaccettabile, ma che ormai è presente, è attuale. Certo, in questo caso il libro è molto rapido, non fa delle calate precise e attente su ciò che è il tradimento di Nagash, tutto quello che accade chiaramente contro Alcadizar, anche le origini dei vampiri vengono completamente evitate e questo penso in una volontà anche di concentrarsi praticamente proprio su quello che è l'aspetto dei Tom Kings di Camry, quindi evitando di approfondire questo argomento. Io anche in questo caso colgo l'occasione perché appunto ne abbiamo invece noi parlato abbondantemente e quindi trovate tutto sul canale. A questo punto, proseguendo, vediamo Neekara in guerra. Neekara in guerra chiaramente ci viene dato un piccolo prospetto dove ci viene descritto un po' la disciplina delle legioni neekariane anche adesso, nel momento attuale, post-resurrezione, quindi queste corti di non morti, di scheletri attente che si pongono in schiere di lanceri, arceri, ma anche di cavallerizi, quindi di cavalleria anche molto possente, utilizzata per lo sfondamento delle linee nemiche, per circondarle, cavalleria che addirittura si può porre come cavalleria da tiro, quindi arceri a cavallo e ha poi ovviamente un riferimento a uno dei miti delle legioni neekariane che sono invece i carri da guerra. A questo punto poi c'è una differenziazione per quanto riguarda le due essenze che vanno a guidare, diciamo così, i reami di non morti, di Camry e non solo. Parliamo ovviamente di Tom Kings anche in senso allargato. E qui parliamo da una parte della nobiltà guerriera, nobiltà guerriera che si è chiaramente andata a risvegliare nelle varie città, nelle varie catacombe, nelle tombe monumentali che disseminate per tutta la terra di Neekara, post-grande rituale di Nagash, si sono ritrovati chiaramente anche lontani dal controllo di Setra, di Camry, la città principale, chiaramente il nucleo vivente, o meglio non vivente, facendo un po' di ironiera, che va a istituirsi al centro delle terre dei non morti. Da questo punto di vista vediamo quindi anche una diversità di intenti, non tutti si schierano chiaramente al fianco di Setra, altri invitanzi andavano contro il suo volere, uno degli esempi diciamo più chiari può essere l'esempio di Numas, che non si è mai affiancata diciamo così alla volontà di Setra pienamente, però ecco al di là di questo si fa riferimento ad una enorme diversità, differenziazione e anche di conflitti che ne derivano chiaramente sotto lo sguardo di un Setra che avrà bisogno di tempo per ricucire tutte queste differenze, anche con la forza chiaramente. D'altra parte invece si fa un altro riferimento e qui anche con un numero di interesse sulla novità, sul qualcosa di secondo me non approfondito a sufficienza in passato, sulle legioni invece dei culti dei morti, che affiancano chiaramente quelle più classiche che abbiamo citato prima. E qui parliamo dei costrutti, chiaramente, degli usciabti, ma anche delle necrosfingi o comunque di tutte quelle costruzioni erette dai magari necrotetti e animate successivamente, che affiancano queste falangi ben disciplinate e che rappresentano una minaccia sostanziale anche agli intrusi che magari in cerca di tesori antichi, dimenticati, come ad esempio i cacciatori di tombe, persone che dal mondo diciamo esterno alla landa dei morti si avventurano in cerca di queste preziose risorse, beh, fanno sicuramente da guardia ai grandi sepolcri, alla grande città tomba, possiamo definirli in questo modo. E dall'altra parte un approfondimento appunto molto interessante su l'attività, l'attività del culto dei morti, che si è andato a muovere regine e re di Necara, che ancora in vita ebbero modo di inviare appunto i rappresentanti del culto in giro per il mondo, alla ricerca appunto di risposte a questo annoso problema appunto rappresentato dalla morte stessa, inesorabile chiaramente, inevitabile almeno all'apparenza. E quindi un culto che si estende e va oltre i confini di Necara, arriva addirittura nelle terre dell'impero e di Bretagna creando delle strutture nascoste, dei piccoli laboratori o possiamo definirli effettivamente dei templi, dove i sacerdoti hanno sostanzialmente tentato di trovare una soluzione. E quindi anche degli obiettivi interessantissimi, ora che le legioni si sono ridestate, ora che i re, come anche Settra stesso, sono tornati a calpestare le sabbie di Necara, hanno chiaramente nell'obiettivo una volontà quindi anche pericolosa ai danni delle fazioni umane, dividenti, che si sono poi sviluppate nel corso dei secoli, dei millenni, proprio durante il periodo anche di quiescenza dei Tom Kings, che ora appunto sono minacciati perché le legioni guidate dai sacerdoti si muovono con l'intento di recuperare le antiche ricerche lasciate magari proprio all'interno di questi templi nascosti in terre così lontane. Addirittura si fa riferimento a terre come il Reikland, quindi anche molto specifiche, e quindi al cuore dell'impero, con degli interessi estremamente affascinanti che possono fare chiaramente da punto di sviluppo per delle narrazioni future all'interno di Warhammer the Oddworld. Estremamente affascinante quindi questo lancio lungo, ecco, nei territori più lontani. A questo punto il libro ci presenta non solo una mappa estremamente interessante della Terra dei Morti, ma fa, come visto per Bretonnia, una calata all'interno del reame stesso dal punto di vista geografico. Ci parla chiaramente del reame della morte, dei morti in sé per sé, quindi di questo ampio territorio che diversamente da quello che abbiamo anche citato poc'anzi, ricolmo di vita abbondante nei suoi frutti. Ora, dopo chiaramente il grande rituale di Nagash, si trova a essere estremamente all'antipodi, quindi un reame di morte, una terra velenosa con un fiume che non è più chiaramente il fiume vita, ma è diventato il fiume Mortis, colorato di rosso sangue, portatore di veleni appunto e di morte anch'esso. Una terra lontana da quel mito leggendario che diede modo ai cariani di espandersi e di creare le antiche città gloriose, che ora chiaramente si ritrovano ad essere ammantate nelle sabbie, con strutture decadenti, di certo uno specchio lontano di una gloria passata. Dall'altra parte poi le oasi, i piccoli terreni che ancora oggi resistono qua e là, che offrono acqua fresca, pulita e che vengono utilizzati anche dalle poche carovane, dobbiamo dire, non è vero, che osano avventurarsi all'interno di questi territori, ma molte di queste oasi sono diciamo specchio poi di un territorio anch'esso malato, anch'esso deturpato, che in realtà fa da specchietto per le allodole, diciamo così, proprio per quei folli che osano avventurarsi in questi territori, trovandosi davanti poi in realtà a delle trappole vere e proprie. D'altra parte poi abbiamo le grandi sabbie, le sabbie cangianti, che riguardano invece il territorio più selvaggio delle terre di Necara, della landa degli morti, terre che sono illegibili, dune che si muovono, un giorno esistono e il giorno dopo non più, ingannando gli avventurieri, i pochi che osano appunto spingersi all'interno di queste zone, delle lande cangianti, colpite da tempeste di sabbia, baciate da un sole tremendo in grado di essiccare qualsiasi cosa, pochissime forme di vita riescono a sopravvivere all'interno di questi territori e, come se non bastasse, alcune statue ferme, immobili da millenni, ma capaci di proiettare terrore e sicuramente fanno parte queste ultime di una sequela di statue che appunto proteggono Necara stessa e che non permetteranno, perché queste ultime appunto si andranno ad animare, non permetteranno a nessuno di calare ulteriormente nei territori più sacri della grande landa dei morti. In sostanza un reame apparentemente desolato, vuoto, completamente avulso alla vita, ma non del tutto inanimato, come abbiamo poc'anzi detto, perché effettivamente sono molte le creature evocate che si muovono sotto queste sabbie, scorpioni giganteschi, centipedi enormi, grandi quanto statue di sfingi, che nei secoli si sono andate a muovere all'interno di questi territori. Fin dai tempi di Nagash e del suo grande rituale mostruosità, orchi, ma anche banditi, nomadi, hanno tentato di penetrare all'interno di questi territori in cerca di gloria o di semplicemente battaglia. Ma Necara appunto è un reame sì desolato, sì bruciato dal sole, ma molto lontano dall'essere del tutto immobile. Successivamente appunto caliamo poi nelle città. Vengono chiaramente citate alcune delle più importanti. Da una parte Kemri, la città dei re, la più importante città, come abbiamo detto prima, già all'epoca di Settra, quando ancora era in vita, era la città dei re, la città dedicata appunto ai più grandi faraoni della terra di Necara. E ancora oggi Settra, tornato in vita, risiede qui a Kemri e da qui continua a muovere le sue truppe, i suoi emissari, i suoi più fedeli combattenti, nella ricerca, diciamo, di una volontà di unificazione che viene rinnovata ancora una volta, nonostante i secoli, o meglio i millenni passati. Abbiamo poi la città di Numas, lontana dalla leadership chiaramente anche di Kemri stessa, come abbiamo detto prima, che si pone anche proprio con una volontà di mantenere un'indipendenza attraverso il principe Tutankhanut, una manifestazione di una divinità che è la divinità dello Scarabeo, infatti Numas è la città degli Scarabei. Abbiamo poi Zandri, il più grande e importante porto, the Fleetport of Terror, così viene riportato attualmente, là al delta del fiume Mortis, questa città si leva, anche con i suoi grandi porti appunto, e presenta proprio un'importanza fondamentale anche nei piani di Setra, che si è già allungato verso questo territorio, cercando di riunirlo a Kemri. E qui legioni di vendicativi scheletri si muovono con la fama e la volontà di conquistare, di tornare a spargere sangue nei territori che non osano piegarsi alla gloria di Neekar. Abbiamo anche poi Libaras, la città di Asaf, della divinità della Serpe, città che si lega intimamente, ed è qui chiaro riferimento anche ai vampiri, alla regina Kalida. Regina Kalida che si è trovata chiaramente ad offrire la prima istanza difensiva contro la minaccia proprio di Lamia e dei vampiri stessi, e chiaramente qui avremo poi modo magari di approfondire, spero in futuro, perché è uno di quelle figure che mi affascinano personalmente tantissimo. Proseguendo, si ha poi anche un riferimento anche qui alle montagne. Abbiamo un chiarissimo rimando a Qatar, che è la città guardiana delle montagne, una città che presenta un'importanza fondamentale a livello strategico, difensivo sulle montagne ai confini del mondo, attraverso un passo che va a difendere con una sequela di gigantesche statue che proteggono quest'area. Statue che saranno pronte anch'esse ad animarsi in qualsiasi momento, qualora degli eserciti intenzionati a devastare, a conquistare, a deturpare la gloria della città di Qatar, si volessero muovere in questo senso all'interno di queste zone pericolosissime. D'altra parte abbiamo anche Marak, un'altra città importantissima che si pone in fortissima antitesi proprio con Kemri, guidata dal suo sovrano, il re Far, che da tempo immemore si è rifiutato di inchinarsi ad altri e soprattutto al suo rivale Settra. E ad oggi, ancora una volta, il re Far continua a combattere contro Settra, anche venendo a sapere che i suoi discendenti all'epoca di Nagash infine decisero di sottomettersi al potere di Kemri, della città dei re, conducendo ad un'ira devastante che ha portato alla distruzione di molte delle tombe proprio di questi discendenti che sono stati completamente dimenticati, distrutti, annichiliti, proprio per evitare che la città di Marak potesse tornare ad essere debole davanti alla potenza di Settra. E poi, proseguendo, anche qui abbiamo un bellissimo riferimento non solo alle Araldiche, ma anche ad alcune delle nuove unità presentate all'interno di questo nuovo lancio per il vecchio mondo. Abbiamo appunto i Draghi, i Draghi d'ossa, che vengono ripresi con un piccolo paragrafo proprio per sottolineare come già all'epoca, diciamo, antica, passata di Necara, i Lich Priest, i preti del culto mortuario, utilizzassero questi Wyrm, venissero addirittura essiccati nel momento della morte del loro possessore, dei più forti, dei più potenti sobrani di Necara, che potevano appunto cavalcarli in vita, vennero appunto mummificati anch'essi e inseriti come corredo funebre al momento della morte di questi antichi re, di questi antichi faraoni. E quindi ora, con il ritorno dei Necariani alla forma di non morte, anche i loro Draghi, le loro Viverne, per essere più corretti, sono state riesumate e sono state rianimate anch'esse. E poi appunto, come vi dicevo, una calata molto affascinante all'interno di tutte le decorazioni che vanno ad ammantare cadaveri, gli scheletri, da una parte chiaramente differenziandoli, perché abbiamo chiaramente le guardie dei sepolcri che hanno un vestiario molto più ricco, passando invece per gli scheletri arcieri e guerrieri che compongono la spina dorsale delle grandi legioni, delle cortine cariane, che sono però evidentemente meno decorate, invece più essenziali per quanto comunque interessanti. E quindi con questo finiamo questa parte diciamo iniziale che, come vedete, come vedrete beninteso, è un poco più scarna rispetto a quello che abbiamo visto per Bretagna, ma comunque non meno interessante e comunque non meno utile, diciamolo anche per chi magari sta approcciando il vecchio mondo proprio ora attraverso questo rilancio. Arriviamo a questo punto però ad una parte narrativa estremamente interessante e che si va ad intrecciare in maniera molto stretta con quello che abbiamo visto nelle guerre dei principati di confine, perché questo paragrafo molto interessante e più narrativo, denominato la furia di Settra, si lega proprio a quello che stavamo raccontando per i reami di Bretagna. E quindi tutto inizia con la morte del re dei sepolcri, Septà di Amarantine, che a donno del vero in realtà è una regina dei sepolcri. Ma al di là di questo abbiamo rinominato anche lo scorso video alla presenza dei bretoniani guidati in questo caso da un eroe fondamentale che è Siricus Carrar, un nobile signore bretoniano, un barone di che nell'es che andiamo a recitare di nuovo appunto, che nell'anno 2276 si ritrova a combattere nel cuore delle Bedlands e poi della terra dei morti fino ad arrivare allo scontro proprio con Septà, che è stata risollevata dalla morte da un sacerdote lice, chiaramente. E qui ci colleghiamo anche in parte però a quello che vi dicevo prima, ossia alla narrativa contenuta all'interno del libro, del romanzo, i signori della lancia, chiamiamolo così, traducendolo. E a questo punto vorrei fare una piccola digressione prima di calare all'interno della narrativa denominata appunto la furia di Settra. Poc'anzi abbiamo fatto appunto riferimento a Siricus Carrar, ma Siricus è soltanto un nome? È qualcosa che è giunto a noi come nuovo personaggio? Effettivamente sì, Siricus è un personaggio che si lega strettamente alla nuova narrativa di The Old World, ma il cognome che porta Carrar non è un cognome qualsiasi non noto, perché è un cognome che abbiamo già avuto modo di incontrare in passato all'interno della narrativa espansa di Warhammer Fantasy Battles, perché Siricus è un antenato in realtà di Leofri Carrar, Cavaliere di Bretagna, eroe anch'esso della città di Kennellè, e che si è unito ai sacri ranghi dei Cavaliere del Graal. E qui abbiamo una correlazione importante con I Guardiani della Foresta, un romanzo anch'esso in realtà che si è occupato all'epoca della scrittura di questo romanzo, e ad oggi della scrittura della nuova novella che abbiamo citato. E quindi una unione ecco di intenti abbastanza importante. Qui davanti appunto alla figura di Leofri Carrar ci troviamo a dover anche un attimo delineare secondo me questa figura. Salito alla ribalta per la prima volta, quando era ancora un Cavaliere errante, disarcionando il terribile Duca Schilfrò al Torneo di Cron, in un'impresa che nessuno dei Cavalieri dei Duchi li riuniti si sarebbe mai aspettato di vedere. Il giovane riuscì a sconfiggere il Cavaliere e non solo lui, ma anche tutti gli altri, guadagnandosi non solo la fama e il favore della bellissima Lady Helene, con la quale presto si sposò e dalla quale poi ebbe anche un figlio. Ancora come Cavaliere errante, però, Leofric fu chiamato in servizio da Luen Lenker, combattendo nelle guerre dell'Erranza contro Arkhaon e in difesa dell'Impero. Fu poi a Middenheim che Re Luen guidò un centinaio di cavalieri in una carica che si diresse proprio ai danni di Arkhaon e delle sue leggendarie spade del caos. Leofric partecipò a quella carica e, sebbene i giovani nobili combattessero con coraggio, non poterono, diciamo, competere con la più grande banda di guerrieri del caos che all'epoca calcava quelle terre. Così, Leofric stesso e il re riuscirono a essere tra i pochissimi sopravvissuti a quella scaramuccia che in realtà si bagnò di sangue, anche se alla fine la battaglia fu vinta e le forze del caos appunto respinte. Per il coraggio comunque dimostrato, Leofric ricevete un dono. Il dono in realtà si palesò essere un possente cavallo da guerra chiamato Tusken, una ricompensa dallo stesso re Luen che lo battezzò a pieno titolo Cavaliere del Regno. Di ritorno da quegli orrori visti contro i guerrieri del Nord, Leofric non era più chiaramente nemmeno l'energico giovane Cavaliere Errante, ma ormai un solenne e devoto guerriero di Bretonnia. Cavalcò insieme alla sua moglie e al suo figlioletto per tutto il ducato di Kenelè, visitando altri signori, gareggiando in tornei importanti. Durante questo periodo, in una fatidica notte, quando sua moglie fine poi scomparve nei confini della misteriosa foresta di Atelloren, rapita, si disse, da la fata, da una fata o meglio forse addirittura da degli emissari degli elfi stessi. Il nobile ovviamente colse la notizia con rabbia, infuriato, si inoltrò nella foresta per salvare sua moglie, per ritrovarsi in realtà poi coinvolto in una guerra tra elfi silvani e uomini bestia. Decise infine di stringere un'alleanza con gli elfi, Leofric avrebbe aiutato a salvare Atelloren, combattendo al fianco dei nobili e dei draghi della foresta, per arginare l'ondata caotica. Alla fine, ricevette una visione dalla signora, dalla dama del lago. Solo lei sapeva come Leofric avrebbe potuto ricongiungersi con sua moglie, ma aveva bisogno di dimostrarsi puro ai suoi occhi per poterla salvare. Leofric partì così alla ricerca del Graal, come molti altri prima di lui. Viaggiò in lungo e largo, verso terre perdute, incontrando creature selvagge e altri territori meravigliosi. Nel lontano Katai addirittura si trovò a fronteggiare un drago di Giada e riuscì infine ad ucciderlo nel fiume Esmeraldo, salvando le mogli dell'imperatore drago Zhang Zhimu dalla decapitazione da parte di un culto del boia della perla di Giada, probabilmente un culto caotico. I misteri della lontana India addirittura gli furono svelati mentre cavalcava cercando il Graal nelle caverne del fuoco e apprendeva così i segreti degli esseri antichi che lì dimoravano. La sua ricerca lo spinse sempre in avanti, finché, infine, nel luogo più oscuro del mondo, Leofric scoprì il Graal e beve dalle sue acque radiose mentre la luna di un cacciatore sorgeva sulla foresta degli Asrai. Leofric sarebbe infine tornato laggiù a Tatelloren, dove tutto aveva avuto inizio. Molte volte lo fece nel corso degli anni, percorrendo i suoi sentieri segreti, sapendo che un giorno, in quell'intrico vegetale, sulla promessa fatta e mantenuta dalla dama, si sarebbe riunito con la sua amata. Questo è un piccolo estratto molto semplice, chiaramente, di questo vecchio romanzo di Graham McNeil. Per quanto riguarda, invece, il suo antenato, abbiamo già potuto dire qualcosa al riguardo. Appunto, è stato lui a piccare la scintilla che ha iniziato tutto il percorso di guerre e di combattimenti che abbiamo già potuto anche in parte vedere in Arcane Journal Kingdom of Bretonnia. Ora, in questo caso, vorrei anche qui approfondire giusto qualche piccolo passaggio. Perché appunto, nel romanzo moderno, Signori della Lancia, sempre appunto di Graham McNeil, il nostro protagonista, uno di questi protagonisti, in realtà, è Siricus Carrard. E il signore Bretoniano, diciamo che, impropriamente, nello scorso video, disse che riuscì a sconfiggere Septà, la Marantina. La verità è leggermente diversa. All'interno del romanzo, noi scopriamo come il barone, e qui attenzione, chiaramente, agli spoiler, è stato, diciamo sì, condotto all'attenzione da un emissario misterioso giunto alla sua corte. Ovviamente lui è un barone, e quindi questo cortigiano arrivò direttamente da lui, portando questa informazione. E, al di là di tutto questo, la formazione del suo piccolo esercito personale raccolse diversi personaggi, tra cui alcuni dei protagonisti proprio di questo romanzo. Ovviamente, nonostante tutto l'eroismo cavalleresco dimostrato dal leggendario Cavaliere del Graal, che avanzò, diciamo, anche al passo dello stesso Leofric, e qui parliamo di Leodegar, il barone e i suoi alleati vennero sconfitti nel deserto assolato, quando Carrad, appunto, trovò la morte sotto i colpi di Septà stessa. Senza leader, e a questo punto anche in inferiorità numerica rispetto ai non morti, i cavalieri sopravvissuti di Canelles furono costretti, loro malgrado, ad arretrare nei territori che avevano già calpestato precedentemente per giungere nella terra dei morti. Quindi, a ritroso, rientrarono nelle Badlands, nelle Malelandhe, poi sugli altopiani che si affacciano sul Golfo Nero, e infine, qui combatterono una seconda volta. Attraverso, però, questa volta, audace azioni, eroiche cariche di cavalleria, e per volontà della dama stessa, Septà fu finalmente debellato, e i cavalieri sopravvissuti, i pochissimi ormai rimasti, tornarono nei principati di confine. Ovviamente noi sappiamo che poi, a questo punto, l'ira di Septra esplose, anche perché, appunto, sappiamo come Septà, la Marentina, è un lord al cospetto di Septra, uno dei più importanti, che lo ha servito fedelmente fin dai tempi antichi, e da qui ci potremo, volendo, appunto, attaccare a quella che è l'attuale narrativa contenuta all'interno, proprio, questo Arcane Journal. Chiaramente, ora, faremo anche qui un passaggio compassato, cercando di seguire, mano a mano, lo svolgersi di questa trama. A questo punto, Septra, come ben sappiamo, eleva i suoi standardi e richiama all'ordine le sue falangi, che, appunto, si muovono fin da subito verso Zandri. La città portuale, sappiamo, si mette in moto, costruzione delle navi, e, da una parte, appunto, Toletor, che viene inviato direttamente verso Casos e Tessos. Queste due città, che sappiamo, poi, saranno la testa di ponte iniziale nei principati di confine, e che porteranno ad una battaglia successiva, che è la battaglia di Sita del Boelia. Ma, questa, chiaramente, è una storia che abbiamo già raccontato, e quindi non mi ci soffermo per un'altra calata inutile a questo punto. Ma, dall'altra parte, qui entriamo già in contatto con informazioni differenti, informazioni che, nell'altro libro, non abbiamo avuto modo di sondare, chiaramente. perché è vero, se da una parte accade questo, dall'altra qualcosa viene mosso in un altro senso. Un altro esercito, questa volta guidato da un lich priest dei culti mortuari, dei culti dei morti, viene fatto muovere direttamente per volontà di ritrovare il corpo, probabilmente martoriato, di Septà, la Marantine. E qui viene, appunto, la volontà di una duplice mossa, viene, appunto, sottolineato come Settra stesso intenda muoversi non solo sull'azione, appunto, già nota all'interno dei principati di confine, ma anche verso le Malelande e, se necessario, ancora più a nord, addirittura giungendo, eventualmente, a Barakvar, seguendo quella che è la via di Zandri, una via che si muove serpeggiando sulla costa del Golfo Nero, avanzando sempre più a nord. In questo caso, però, viene mosso un altro leader, qualcuno che possa essere, diciamo, abbastanza fedele alla volontà di Settra e che possa seguire, effettivamente, anche delle azioni militari in territori lontani. L'esercito viene munito, in realtà, di diverse tipologie di unità molto, molto particolari che noi conosciamo, chiaramente, legate alla fazione dei Redesepolcri, giganti, scorpioni, serpenti, necroliti, abbiamo sfingi, usciapti, quindi ogni sorta, chiaramente, di presenza, da questo punto di vista, di costrutti necrotici, viene utilizzata. E, a questo punto, a capo di questo esercito, viene posto uno hierofante, Ashurtak, che decide di muoversi verso le montagne Dragonback, qui, nel tentativo, chiaramente, di ritrovare i cadaveri, le tracce, quantomeno, dei guerrieri di Septà, che, per informazioni ricevute, devono aver combattuto all'incirca da queste parti, almeno in una prima battaglia, contro i bretoniani di Kennelless. La ricerca si muove a questo punto, l'area di espansione viene setacciata, e l'attenzione porta però ad una città in particolar modo, una città che in realtà ha un dominio elfico, una colonia elfica ancora attiva sulle coste delle Malelandhe. Thor Hanrock, una cittadella degli alti elfi. Thor Hanrock, tra le altre cose, viene qui modificata nella sua posizione originaria, perché Thor Hanrock era in realtà una città posizionata nella vecchia lore di Warhammer Fantasy, nei Principati di Confine. Qui diversamente viene posta dall'altro lato del Golfo Nero e nello specifico appunto lungo la frastagliata costa delle Malelandhe. Qui una guarnigione regolare difende anche i diciamo piccoli insediamenti umani che si sono andati a creare intorno alla città di Thor Hanrock. Ma chiaramente davanti all'arrivo di questa armata non morta guidata dalle Ierofante c'è il panico. Gli umani scappano e cercano rifugio all'interno di Thor Hanrock. Gli Elfi aprono le loro porte anche il rapporto con questi umani è un rapporto positivo è una piccola enclave all'interno di un territorio estremamente selvaggio quello delle Malelandhe chiaramente e quindi decidono di aprire le porte ma sono braccati appunto da un esercito che non si fermerà l'intento è ben chiaro l'Ierofante vuole sapere assolutamente tutto ciò che gli è necessario sapere per ritrovare il corpo e ancor meglio qualora gli Elfi stessero nascondendo il corpo beh andranno a conoscere l'ira di Settra e delle sue legioni tutto verrà negato dal sangue a questo punto la legione del culto dei morti raggiunge Thor Hanrock vengono inviati degli emissari gli emissari giungono e portano l'informazione ecco della volontà dello Ierofante di ricevere il corpo qualsiasi risposta negativa avrebbe comportato la completa distruzione di Thor Hanrock e il massacro completo di tutti coloro che all'interno dei bastioni si andavano a nascondere la risposta però fu chiara gli Elfi non sapevano nulla non avevano trovato niente nel deserto non avevano incontrato Septah e tantomeno ne stavano nascondendo il corpo infine il comandante della guarnigione degli Elfi tagliò netto con una risposta che fece sorridere con cupo risentimento Ashurtak all'interno avrebbero trovato soltanto le lame dei difensori ad attenderli lo Ierofante si allontanò rapidamente dalle porte in quercia della grande città e infine comandò ai suoi di muoversi l'orda scheletrica e i costrutti mostruosi che lo accompagnavano entrarono in azione le frecce volarono dai bastioni con gli Elfi che lanciavano una raffica dopo l'altra i ranghi sottostanti frantumavano i teschi con colpi posizionati sapientemente nel frattempo grandi dardi lanciati dalle macchine d'assedio poste a difesa vennero a schiantarsi contro le più grandi masse di scheletri che avanzavano per poi rivolgersi anche sulle grandi necrosfingi e sui giganti d'ossa che si avvicinavano ormai ai muri così preoccupati oltre quel muro gli Elfi non se ne accorsero le loro attenzioni erano rivolte alle gigantesche falangi in avvicinamento qualcosa si stava facendo strada sotto la superficie dietro di loro proprio nel centro nel culmine della battaglia la terra tremò come un'onda e uno sciame di scarabèie ruppe dal suolo dietro le mura andando a schiantarsi sui difensori decine di guerrieri di guardie del mare di Lothurn caddero mentre i piccoli scarafaggi si facevano strada sulla carne esposta rosicchiando mordendo gli Elfi cercavano disperatamente di schiacciarli ma mentre gli scarabèi stavano distogliendo l'attenzione enormi scorpioni e necroserpenti scoppiarono come bulbi da sottoterra strapparono via gli Elfi dalle loro postazioni per poi puffarsi ancora una volta da dove erano arrivati nessun segno delle loro vittime tranne che di una piccola traccia di sangue nella sabbia l'assalto sotterraneo gettò i difensori nello scompiglio pilotale con molti che abbandonarono non solo i loro posti ma addirittura l'intera cittadina pur di salvarsi per non essere catturati da quei mostri che da sottoterra continuavano a giungere ciclicamente il comandante cercò di mantenere l'ordine di radunare chi era ancora rimasto tra i difensori inorrediti ma le grida di battaglia del lord degli elfi si fermarono istantaneamente quando una lama un copesh si infilò direttamente tra le sue scapole nella schiena da quello che sembrava essere un vortice di scarabei appollaiati in cima al quale vi era un teschio del famigerato principe assassino Afofas il signore degli scarabei così con quella morte il loro capitano venuto meno circondati da tutti i lati gli elfi vennero stretti spalle al muro continuarono a combattere coraggiosamente ma ogni probabilità era contro di loro tutti quanti furono infine tirati sottoterra sepolti vivi il principe Afofas e il culto mortuario mosso con i suoi mostruosi costrutti avevano sconfitto i difensori la forza principale di Ashurtak aveva raggiunto le mura lasciando le torre silenziose prive di vita lo ierofante non perse tempo e immediatamente si mise a cercare il corpo di Septala Marantain ucciso forse dagli alti elfi tuttavia nonostante le ricerche furono minuziose il corpo non fu trovato Ashurtak decise di non perdere ulteriormente altro tempo davanti a lui mosse le sue forze dalla torre di Torarok lasciandosi alle spalle una città in rovina e ormai deserta con i corpi dei suoi difensori adesso sepolti in profondità sotto le sue stesse fondamenta con ben poche informazioni sul re Septah Ashurtak decise di muoversi a nord proseguendo sulla strada di Zandri verso cittadella di Mirmidia e più a nord verso anche la stessa Barakvar a questo punto il lord di Necara decide di perseguire una strada pericolosa lungo il lato destro le montagne Dragonback lungo il lato sinistro invece le frastagliate coste del Golfo Nero una processione macabra continuò a muoversi a serpeggiare sempre più in profondità nelle Malelande senza però rendersi conto che gli abitanti di quelle terre selvagge forse i più noti si erano resi conto di una presenza inattesa e interessante tributi orche e goblin si iniziarono a spostare dalle montagne vicine scendendo a valle attirati dal frastuono delle grandi legioni del culto dei morti per intere settimane le tributi orche e goblin continuarono ad attaccare dai lati la grande legione del culto dei morti erdendone le forze vicino la grande armata di Settra si stava muovendo e sarebbe sbarcata Amatorea questo era un ritardo inaccettabile Ashurtag sapeva che per muovere definitivamente le forze del nemico allo scoperto sarebbe stata necessaria una sfida diretta così decise di mandare i suoi emissari nella speranza di far arrivare un semplice messaggio al warlord locale l'orco capoguerra avrebbe incontrato in campo aperto le legioni di Necara qui per uno scontro finale per decidere finalmente chi sarebbe stato il più forte togliendo di mezzo qualsiasi atto di codartia nei giorni successivi gli attacchi venirono meno finalmente l'esercito di Ashurtag poté tornare a muoversi più rapidamente verso nord questo non perché gli orchi avessero perso interesse al contrario si erano ritirati e stavano ammassando un'enorme e singola forza che sarebbe scesa come una fragorosa frana delle montagne la minaccia non venne sottovalutata da Ashurtag che davanti all'arrivo di quella gigantesca forza selvaggia iniziò a muovere nuovamente le sue legioni in posizione pronte per affrontare il nuovo nemico che gli si era parato davanti al centro dell'enorme marea verde una singola creatura che svettava sulle altre un orco gigantesco che con un urlo di guerra iniziò a muovere le sue forze con vehemenza l'enorme creatura però che presentava una araldica con due asce incrociate palesava anche un aspetto scioccante una panoplia raccapricciante che sembrava racchiudere in sé la testa del re septal amarantino con le linee di battaglia ormai asciugate dai continui combattimenti Ashurtak si preparò ad incontrare la gigantesca orda di orchi era ben conscio che quella vittoria sarebbe stata importante forse fondamentale da strappare successivamente si sarebbe diretto ancora più a nord verso cittadella di mirmidia e barakvar per poi discendere con il corpo recuperato di re septal e tornare al cospetto di settra per rendere di nuovo servizio al re dei re ebbene anche in questo caso ci troviamo davanti ad un cliffhanger la battaglia contro gli orchi non ci viene mostrata ora dovremo capire se in futuro tutto questo verrà portato in avanti ma come ben chiaro le due dinamiche viste sia nel primo che in questo secondo arcane journal si intrecciano in maniera estremamente interessante questa direttrice quella appunto diciamo che si muove attraverso le badlands ha un intento ben specifico il recupero del corpo di septà che come abbiamo visto in qualche modo deve essere arrivato nelle mani di questo capoguerra degli orchi d'altra parte nei principati di confine i bretoniani muovono a difesa di matorea che attualmente è apposta sotto assedio dalla gigantesca flotta e grandissima legione guidata dallo stesso settra quindi due dinamiche estremamente vicine anche geograficamente che andranno probabilmente a incrociarsi di nuovo in futuro dovremo capire chiaramente come vorranno fare per portare avanti questa narrativa che attualmente si infiamma diventa viva da una parte appunto settra rimasto l'unico lord diciamo che spinge l'offensiva nei principati di confine direttamente e dall'altra parte appunto l'altro diciamo concorrente nonché alleato di settra questo hierofante Ashurtak che continua a muoversi verso nord attraverso la via di Zandri con questo problema appunto dei pelle verde che dovrà affrontare nel futuro prossimo molto interessante anche qui c'è un diciamo assist a quello che dovrebbe essere il futuro della narrativa perché chiaramente gli orchi e qui abbiamo un collante fondamentale che ci porta a quello che sarà il terzo arcane journal perché nel frattempo in Warhammer di Old World è stato annunciato l'arrivo delle forze delle tribù degli orchi dei goblin con anche un arcane journal a corredo arcane journal che attualmente non posso diciamo anticiparvi ma che quando arriverà il momento sarò benché lieto di potervi diciamo far scoprire e anche analizzare come stiamo facendo con questi primi due per il momento però questa battaglia diciamo che ormai si apre su più fronti la dobbiamo congelare in attesa di novità narrative molto interessante e ora giungiamo un po' diciamo a conclusione di tutto questo grande passaggio perché abbiamo anche in questo caso un paio di calate narrative interessanti su due lord in particolar modo abbiamo anche tutto quello che non è stato diciamo toccato precedentemente con l'interesse verso Nagash chiaramente qui un riferimento alla storia del grande necromante al diciamo grande tradimento di nuovo una calata interessante nel culto dei morti e di tutta questa casta sacerdotale che attualmente però è fondamentale per Setra in quanto grazie a loro le gigantesche legioni che può utilizzare nel suo scopo di conquistare nuove terre o recuperare le antiche terre che un tempo gli appartenevano tutto questo è possibile grazie proprio al culto dei morti e a questo male necessario così viene definito anche perché Setra si ritrova in una condizione che non voleva questa condizione di morte deturpata chiaramente di vita e morte che combaciano in questi corpi abbizziti mummificati svuotati è un male necessario per l'appunto che però viene sfruttato chiaramente da un Setra che si ritrova in una condizione del genere proseguendo invece ci troviamo davanti alla spiegazione un po' diciamo storiografica della figura di Afofas un antico re dei sepolcri che desiderava il trono di Numas e che a tal fine tagliò la gola dell'intera stirpe reale mentre dormivano proclamandosi re in maniera autonoma tuttavia il popolo di Numas si ribellò contro di lui e i fedeli al re diciamo erruppero nella sala del trono trascinarono l'usurpatore per essere giudicato di tutti i crimini commessi a Necara e tutti i crimini però diciamo non potevano raggiungere il male che era stato perpetuato ossia il regicidio e davanti al regicidio coloro che tentavano di imparaginarsi del trono veniva addirittura negato il privilegio della mummificazione le loro ossa gettate tra le caroni del deserto questo chiaramente non era abbastanza nelle tortuose profondità degli inferi di Necara qualcuno avrebbe avuto modo di divorare l'anima non mummificata e quindi per i crimini che Apophas aveva commesso però la punizione fu più severa fu sepolto vivo all'interno di un sarcofago pieno di scarabèi carnivori si dice che le urla di morte si continuarono a udire attraverso le pareti del tempio per giorni ma quando poi il coperchio fu aperto degli scarafaggi non ce n'era più traccia tutto ciò che restava era un teschio ripulito dalla carne e prima che questo fosse gettato nel profondo deserto vi fu inciso un unico geroglifico magico che malediceva l'anima di Apophas per tutta l'eternità alla sua morte l'anima di quel regicida fu rivendicata da Osirian il dio degli infari per essere tormentata in perpetuo tuttavia essendo in realtà di nobili origini Apophas riuscì a concludere un patto con Osirian promettendo che in cambio della sua liberazione avrebbe reclamato per il dio un'anima al suo posto perfetta ed equivalente alla sua Osirian acconsentì così Apophas rinacque come il signore degli scarabei appare ad oggi come uno sciame di coleotteri che discendono nel terreno finché non vanno a rivelare una figura vestita in nero in mezzo a loro Apophas non è un cadavere rianimato ma una sorta di revenant del deserto il cui corpo è formato da uno sciame di scarabei in cima a questa massa ondulata appare appunto soltanto il suo teschio che guarda il mondo alla ricerca della sua vittima prescelta un'anima che crede possa essere sufficiente a comprare la sua libertà e addirittura un dettaglio ancora più macabro nelle mani di Apophas c'è la stessa lama che è usato per uccidere per tagliare le gole della famiglia reale di Numas che ancora oggi sgocciola del loro stesso sangue soltanto uccidendo l'anima perfetta con quest'arma Apophas potrà un giorno sperare di guadagnarsi la libertà questo chiaramente è un lord estremamente affascinante è un lord che non abbiamo avuto modo di toccare precedentemente in altri momenti di lore e che quindi vi vado a raccontare qui altro lord estremamente interessante anch'esso e che anche qui andrò a spenderci giusto due parole perché poi nemmeno il libro approfondisce in maniera ulteriore è Necaf l'emissario di Settra quando era in vita Necaf era un uomo di umili origini ma formidabile rinomato per il suo fisico potente e il suo senso del dovere senza compromessi anche disarmato Necaf era in grado di sfondare i teschi dei suoi avversari con un solo pugno sebbene uccise molti nemici per volere di Settra fu solo quando combatté in duello per conto del suo re che il vero potenziale dell'araldo fu raggiunto poiché poteva combattere ancora più duramente sapendo che era in gioco l'onore del suo signore qualcosa di molto più importante della sua stessa vita Necaf deviava i colpi del suo avversario con consumata abilità prima di sferrare a sua volta il colpo fatale Necaf non era solo un potente guerriero possedeva anche una grande intelligenza questa è una qualità essenziale per qualsiasi araldo dei sepolcri poiché deve essere in grado di ricordare i numerosi ed elaborati titoli del suo signore in effetti la potenza e i risultati di Settra erano tali che per recitare l'intero elenco di titoli Necaf impiegava quasi due ore ad oggi nella morte Necaf cavalca di città in città come faceva in vita alla testa di una delle eterne legioni di Settra quando arriva alle porte di una città nemica si ferma e chiede udienza ai governanti quando i leader rannicchiati si fanno avanti l'emissario si rivolge loro e offre un'unica possibilità di arrendersi anche se la sua mandibola non si muove e nessun suono distinguibile esce dalla sua bocca senza labbra i tremanti nemici di Necaf sentono una voce profonda e cheggiare nelle loro teste i governanti delle nazioni tremano di paura mentre Necaf esige la loro fedeltà e lì si rendono conto che il loro destino è segnato coloro che rifiutano di inginocchiarsi dinnanzi a Settra o coloro che scegliono stupidamente di attaccare la legione reunita di Necaf devono affrontare l'ira sferrenata di Kemri in prima linea dinnanzi al suo esercito Necaf avanza verso i nemici di Settra facendole a pezze a ogni colpo con il suo flagello dei teschi mentre i corpi dei nemici si accumulano e le legioni di non morti continuano la loro implacabile avanzata i difensori si rendono conto dell'inutilità della loro resistenza ma l'araldo non mostra più pietà e il tempo della resa è passato da tempo perché una volta iniziata una battaglia non è più possibile avere un dialogo quella sfida quell'atto di sfida sfrontata incontra solo la morte e alla fine della battaglia il teschio dorato di un altro re sconfitto verrà appeso al mazzafrusto magico di Necaf che lo stesso Settra gli donò in tempi remoti e questo anche qui un altro lord meraviglioso conclude diciamo lo svolgersi anche narrativo dell'intero arcane journal che devo dire è in grado comunque sia di dare diversi ambiti interessanti sugli artefatti magici sulle armi sulle particolarità ad esempio di alcune unità come le guardie dei sepolcri su carri ma tutto questo chiaramente rappresenta poi un titolo secondario che ora non vorrei andare ad appesantire ulteriormente magari il video cerco di evitarvi spero di avervi comunque riportato con attenzione e dovizia di particolari gli elementi più interessanti contenuti qui all'interno di arcane journal tom kings of camry spero chiaramente che anche la nuova narrativa vi sia piaciuta io personalmente dando giusto qualche parere su quello che abbiamo visto fino ad ora devo dire che l'impianto narrativo è interessante mi sembra comunque una operazione molto credibile quella di unire i principati di confine le malelande geograficamente in una zona di un'ampia battaglia che si va a correlare ad un vero e proprio conflitto su larga scala che coinvolge più attori e più fazioni non solo i singoli principati di confine che chiaramente si sono trovati dinanzi all'avanzata delle regioni non morte ma anche chiaramente di Bretagna che in un certo qual modo attraverso la narrativa del romanzo di Graham McNeil è diventata diciamo la pietra che ha fatto iniziare a rotolare l'intera valanga narrativa e poi addirittura nelle malelande l'intervento delle tribù degli orchi dei pelle verde parlando anche dei goblin che saranno i protagonisti del prossimo arcane journal quindi un intreccio che sta iniziando a porre le proprie basi chiaramente siamo all'inizio quindi tempo al tempo una diciamo definizione finale di tutta questa operazione è ancora lungi da noi per poter essere definita però chiaramente è un buon inizio mi sono ritrovato anche coinvolto positivamente in queste poche pagine ma comunque ben spese per me è abbastanza io vi rimando diciamo nella sezione commenti per poter discuterne un po' in compagnia per poterci confrontare anche dinnanzi a questa seconda disamina che per me rappresenta qualcosa di molto importante perché stiamo vivendo l'inizio di una nuova e vecchia narrativa lo vado a ribadire un'ennesima volta qualcosa che non si vedeva da anni e che sono estremamente lieto di rivedere e di poter abbracciare insieme a tutti voi appassionati io vi ringrazio di cuore spero che il video vi sia piaciuto e noi ci risentiamo alla prossima occasione grazie ancora e a presto grazie a tutti Grazie a tutti